ben ritrovati di nuovo nella mia home gym oggi vi vado a mostrare un altro accessorio che ho acquistato per il mio allenamento si tratta di due ginocchiere barra gambali che vanno a proteggere diciamo le ginocchia durante l'allenamento delle gambe quindi squat stacchi da terra diciamo che ho già effettuato una recensione anche per delle gommitiere che servono diciamo per lo stesso principio ovvero per proteggere la zona delle braccia andiamo a vederli insieme ma vi dico subito che lo acquistate a un prezzo ridicolo c'è 3 euro ciascuno e diciamo che la spedizione dura all'incirca un mesetto su aliexpress lo acquistate vi lascio il link in descrizione vi lascio anche un link alternativo di amazon se volete acquistarli ad un tempo di spedizione consegna limitato quindi un po più veloce andiamo a vederli insieme come vedete sono di taglia l quindi la taglia dovete comunque guardarla tramite la pagina e vi dico solo che l a 27 centimetri di lunghezza poi dovete misurare la parte alta della gamba e guardare ovviamente la dimensione io per una l avevo una lunghezza di 27 centimetri la misura sopra di 17 centimetri diciamo la circonferenza e quella più in basso di 15 centimetri quindi in base diciamo anche al vostro peso del corpo corrisponde la taglia tipo io che penso sui 60 da 60 a 75 kg viene consigliata la taglia l da 40 60 kg la taglia m comunque andate a guardare nella pagina del venditore e trovate le misure colori disponibili diversi tra cui anche il verde il rosso l'arancione che ho visato questo colore e devo dire che li ho già provate ma vado aprire comunque insieme la confezione e mi stanno perfettamente non stringono troppo non sono larghe e anche come materiali sono davvero buone vado un attimo a spacchettare ovviamente l'acquisto è sempre sul pezzo singolo dovete fare due ordini come vedete le cuciture sono ben fatte il materiale non puzza e all'interno c'è anche questa parte diciamo antiscivolo tessuto elasticizzato vado a mostrarle anche da questa parte e devo dire che provandole vanno davvero bene adesso magari faccio un piccolo video dove vi mostro come mi stanno comunque sia devo dire che un ottimo acquisto ve lo consiglio anche magari per chi non fa palestra ma ha problemi alle ginocchia vuole un attimo tutelarle oppure sto facendo magari fisioterapia come vedete sono comunque ben fatti poi per il prezzo ne vale la pena link in descrizione se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela alla prossima review